E ragazzi, ciao a tutti, e no, allora, innanzitutto oggi non vi faccio il saluto, che adesso sto cercando di inventarmi oppure non so se riprendere il famoso saluto solito Adesso appunto vedrò, comunque, se mi state sentendo diverso dal solito, è perché dovete sapere che ho la febbre Sto veramente male, infatti, sto facendo questo video mentre i miei cari compagni stanno studiando, o meglio, sono a scuola Perché, non so se lo sapete, però se mi seguite sul secondo canale lo sapete sì, io oggi avevo una verifica e un'interrogazione Sono andato, ho fatto la verifica e sono beccato a casa, sono tornato back E quindi, ora, dato che vedo un film, perché veramente non riesco a fare nulla, ho detto, ma proviamo a fare un video, un video da malato Eccomi qua a presentarvi il nuovo episodio dell'Excel's Road to Glory, episodio numero 4, come vedete questa qua era la squadra a cui eravamo rimasti Però, se vedete, nello storico siamo 8-1-0 Perché siamo 8-1-0 perché ho iniziato a fare, o meglio, ho continuato, ho fatto altre due partite del torneo che avevo iniziato nello scorso episodio Che mi serviva per dare forma fisica alla squadra Come vedete, sono riuscito a fare più di 20 gol in una partita e ho battuto il Fulham di 5-0 E ora andrei a farne un'altra perché, perché infatti, se io vincerò questo torneo, mi verranno regalati 500 crediti più un pacchetto oro regalo Il che vuol dire che arriverò a 1500 crediti con i pacchetti regalati e solitamente se si scarta il pacchetto che ti regalano sono altri 1000 crediti E con 2500 crediti riuscirò a prendermi cabella Quindi questo qua è il mio ragionamento, ora io andrò a disputare questa partita Al termine di questa partita mi andrò a fare il primo acquisto di questo episodio Per non farli stancare ho fatto appunto una squadra alternativa nella quale sono presenti appunto tutti i giocatori che utilizzo Di solito in panchina, in questo modo i giocatori che utilizzo come titolare solitamente si andranno a riposare Come vedete tutti ora 99, poi vabbè non sto a sprecarli per una partita Utilizzerò ancora questa squadra e andrò poi a giocare online con quella titolare, se possiamo così dire E ragazzi la partita è finita, abbiamo vinto 5-0 perché? 5-0 perché non so se lo sapete, non so neanche se è giusto ma l'anno scorso era così Appunto se fate 5 gol vi danno il massimo dei crediti o meglio non cambia se ne fate 5 o di più Quindi vabbè mi sono fermato a 5 e ho fatto dall'altro Come vedete adesso abbiamo 2041 crediti e andiamo ad aprire il pacchetto oro-omaggio Magari ci troviamo, addirittura quello da 4 oggetti ma che schifo Troviamo cazzire che credo sia abbastanza inutile, gatto, cane, cane e gatto E forma fisica no vabbè Qua possiamo scartare tutto abbiamo 2400 crediti e andiamo a prenderci sto cabella Scartando un po' di giocatori di bronzo che avevamo eccoci qua Possiamo prendere cabella e direi 6 contratti in 96 di forma fisica Ed eccolo qua E guardate un po' quanto sta bene, quanto si è alzata l'intesa Perché infatti siamo riusciti a passare ad 87 E direi finalmente di andare a disputare una nuova partita online Allora ecco qua trovato il nostro sfidante che ha 79 di intesa Quindi niente male, 4-3-3-2 Sì una sorta di Bundesgermania Ovviamente cercheremo di vincere Cabella, eccolo qua Nuovissimo acquisto Che ne scarta subito uno Vede in the middle long Long, long solo contro il portiere E ci portiamo in vantaggio 1-0 C'è long Aia Aia C'è Nocerino Mi ha segnato Nocerino No Ma perché lì? Ma perché lì? Cabella, cabella Avanza Come li ha scartati Ma con che classe facciamo sto 2-1 Ma con quanta classe? Calcio champagne Si prova subito così Madonna che gol Che gol ha fatto 3-1 al 42esimo Ragazzi se volete induttare le sue punizioni Mettete un bel mi piace Perché Oppure commentate Perché Forse su questo FIFA le so tirare Intanto Cabella Con i numeri Cabella si destreggia E ancora recupera un'altra palla Recupera palla E fa già doppietta C'è due gol e due assist È un animale È un animale Incredibile Pereira Che ci prova Per Cabella 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 Vedo in mezzo Madonna che azione Madonna che azione Cabella E lo pulisce L'abbiamo purgato L'abbiamo purgato 6-1 Partita chiusissima Shame long Questo sta fermo Ci posso quasi scommettere E E io sbaglio il rigore Non è vero Ma lui è stato fermo E ragazzi Partita finita Vinta 7-1 Cabella strazzato Ho preso 9.6 Mi ispirava Sto giocatore Ed è veramente Eccezionale Quindi si tiri 12 in porta L'abbiamo un po' arato Ma adesso vi faccio vedere Una magia Lo state vedendo Che è tutto disfatto Guardate un attimo Sono una fucking bestia Guardate un po' Tututu Comunque Abbiamo 582 crediti Mi sa che non riesco A prendere nessuno Direi di andare A disputare Un'altra partita Giochiamola Quindi ora Squadra sempre la stessa Adesso Devo iniziare a fare I primi cambi O meglio Appena avrò i crediti Dovrò prendermi Un terzino a destra Un terzino a sinistra 8 anni Per trovare un avversario Poi non riesco neanche A vedere se abbia La maglietta uguale Però giochiamo ora Dai Questo che modicchi Che deve apportare 58 di intesa Quindi anche questa Abbastanza easy Dai Ecco Me la son chiamata Bella sta boccia Bella sta boccia Cabella Vede long 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 Orca miseria Oddio Erroraccio suo 1 a 0 Al nono minuto Long 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 Ragazzi Però mi volevo innanzitutto Scusare con voi Perché una cosa Che a me dà Un sacco Ma veramente Un sacco Fastidio Sono i commenti Depressi Nel senso Uno che non ci mette Entusiasmo E dato che So che c'è gente Che fa così Anche youtuber Veramente importanti Anche in Italia Io è una cosa che odio Però mi dispiace Perché come voi ben sapete Io i video Li faccio quando posso E potendo adesso Appunto mi tocca farli così Però mi spiace veramente Stratanto Cercherò ovviamente In qualche modo Di farmi scusare Perché come ho già detto È una cosa che odio Io vedere la gente Che commenta Fa Gol Non gol E quindi Miglioreremo sempre E comunque Rodriguez Poi ragazzi Volevo ricordare Di passare da OneFIFA.com Siete interessati A comprare Che di FIFA E mi raccomando Utilizzate il discount code Axel Con 2 Però trovate tutte le info In descrip- In the description Intanto Non riusciamo A fare il 2 A 0 Hola Opsuka E c'è il 2 a 0 Finally Finally we did it We did it E si avanza Tac Tocco sotto 3 a 0 E via Oh 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 Che gol Oh che gol E ancora Cabeia Cabeia E vabbè Ma è infermabile Infermabile Mi non capisco Di cosa si facciano Nava e Pardo Tardo Possono recuperare Ma dove Dove E ragazzi Siamo riusciti a vincere Anche questa partita 5 a 1 Risultati veramente buoni Sto andando Assai bene Comunque squadra Veramente fenomenale Adesso ve la faccio vedere Un attimo meglio Comunque Detto questo Spero che il video vi sia piaciuto Mi riscuso appunto Perché appunto Ho dovuto farvelo In questo mio stato In questa mia situazione Odio la gente Che non mette pathos Nei video E ci sono anche Youtuber di successo Che lo fanno Anche Che non lo fanno Anche se dovrebbero farlo È un must Però Appunto Vi ho già detto il motivo Ne ho messo il più possibile Comunque Questa qua è la squadra Nel prossimo episodio Faremo altri acquisti Anche perché Nel prossimo episodio Rivinceremo Per la seconda volta La stagione 10 Quindi Ci arriveranno altri money I big money Quindi questa qua è la squadra Ma qua Ricordiamo un attimo Le statistiche Se potete Lasciate un bel mi piace Cercherei di arrivare A 3500 Per favore Ultimamente Stiamo andando maluccio Però so Che Si cade Per rialciarsi Quindi Mi raccomando 4000 Mi piace Non 3500 4000 Comunque Questa qua è la statistica Rodriguez 8 partite 7 gole 3 assis Longo 18 gole 5 assis Cabella 2 partite 5 gole 3 assis Quindi Giocatori veramente fenomenali Comunque ragazzi Detto questo Io vi saluto E vi dico Vi ricordo di passare al secondo canale E se vi interessa Comprare archetti Passate da Onefiga.com E vi dico Potenta Pala e senta Al prossimo video Ciao a tutti